Grazie Marco, è tutta la settimana che aspetto di assistere a questo incontro, per cui spero di non rimanere deluso. Buon pomeriggio anche a te Marco e a tutti i telespettatori, non vedo l'ora che l'arbitro fischi il calcio d'inizio. Buon pomeriggio Marco, non sto più nella pelle per questo incontro, speriamo di vedere un bel calcio oggi. Grazie Marco, non ci sono parole per descrivere i giocatori in campo, vediamo cosa ci faranno vedere quest'oggi. Grazie Marco, tutto sembra pronto per il calcio d'inizio, per cui godiamoci lo spettacolo. Grazie Marco, tutti gli appassionati di calcio aspettano con ansia. Grazie Marco e buon pomeriggio, è un piacere per me essere qui a commentare questo incontro. Grazie Marco, i tifosi si aspettano molti gol e non credo che le squadre vorranno deluderli. Grazie Marco, è un piacere essere qui ad assistere a questa grande sfida, possiamo iniziare. Ti ringrazio Marco, ho molte aspettative per questa partita, prepariamoci ad assistere a questo evento. Ciao Marco, siamo fortunati ad essere in prima fila per questa partita, non vedo l'ora che si inizi. Buon pomeriggio a te Marco, si è molto parlato di questa partita. Grazie Marco, stavo scambiando quattro chiacchiere con alcuni tifosi prima e tutti si aspettano una grande partita. Grazie Marco, sono onorato di essere qui stasera e poter assistere a questa partita da così vicino. Buon pomeriggio Marco, l'atmosfera fuori dello stadio quando sono arrivato. Grazie Marco, aspetto con ansia all'inizio di questa partita, speriamo che non deluda le aspettative. Tutto è pronto. Ti ringrazio Marco, stasera le squadre si daranno battaglia e sono sicuro che... Buonasera Marco, a te e a tutti i telespettatori. Mi sarebbe piaciuto essere... Buonasera Marco, ci sono dei grandi campioni oggi in campo. Ci sarà di sicuro da divertirsi. È ora di iniziare. Grazie Marco, la partita di stasera potrebbe riservarci delle sorprese. Vediamo se i fatti mi daranno ragione. Ciao Marco e un saluto a tutti i telespettatori. Grande... Grazie Marco, sono curioso di vedere gli schieramenti delle due squadre. Ciao Marco, è un piacere essere qui con te in questa occasione. Vediamo come va la partita. Buonasera a te Marco e grazie. La partita di stasera... Grazie Marco, ho qualche considerazione da fare sulle due squadre. Un saluto a te Marco e a tutti gli spettatori sintonizzati su questo... Grazie Marco, entrambe le squadre hanno un grandissimo potenziale. Grazie Marco, le squadre, la terna arbitrale e gli allenatori sono pronti a partire. Diamo inizio alle danze. Grazie Marco e buonasera. Lieto di essere qui oggi. Grazie Marco, sarebbe fantastico assistere a una partita ricca... Siamo veramente contenti del tempo che hai trascorso insieme a noi. Speriamo davvero che tu possa continuare così. Hanno scelto una formazione molto offensiva. Penso che vedremo molti gol. È una formazione pensata per attaccare. Saranno decisivi gli esterni. Bisogna dire che questo schieramento è abbastanza fuori dal comune. Non so cosa abbia in mente l'allenatore in questo caso. Francamente mi sembra uno schieramento abbastanza inusuale. Sarà interessante vedere come si svilupperà il gioco a centrocampo. Beh, quando capisci come si schiereranno, puoi organizzare le dovute contromisure. Sembra che faranno qualsiasi cosa pur di non correre rischi. Certo, e adesso hanno la possibilità di vincere la partita. Certamente, e adesso che hanno ristabilito la parità bisogna dar loro credito. Assolutamente. Una sconfitta sarebbe stata eccessivamente severa per loro. Beh, penso che saranno sicuramente contrariati, ma devono passare oltre e cercare di segnare subito un altro gol. Beh, penso che proveranno sicuramente a reagire. Hanno le possibilità per tentare la rimonta. Marco, credo proprio che tu abbia ragione. Pensavano di avere la partita in pugno. Penso che vincerà chi avrà più resistenza. Ci sono molti giocatori che accusano segni di stanchezza. Sì, non c'era molto che potesse farci cambiare idea da una parte e dall'altra. Grande partenza. Sperano di segnare ancora, visto che gli avversari sicuramente cercheranno di pareggiare. Beh, la strada è lunghissima. La miglior difesa, come si dice in questi casi, è l'attacco. Non proprio. Questo gol immediato potrebbe essere l'inizio di una strepitosa rimonta. Hai ragione, penso che potrebbe essere l'inizio di un tracollo. Sì, bisogna dire che siamo di fronte a uno scenario da incubo. Penso proprio di sì. Non penso che abbiano un'idea di quello che è accaduto. Beh, devono riorganizzarsi rapidamente e riprendere la lucidità. Assolutamente. Penso che la sorpresa si legga sui loro occhi. Incredibile. Due gol nei primi minuti, nessuno avrebbe potuto immaginare una cosa simile. Credo che sia difficile vedere una cosa simile tanto spesso. Eh, K.O. La partenza è stata bruciante. Da sogno, direi. Stai giocando veramente bene, ragazzo mio. Beh, bisogna soltanto tenere la concentrazione alta e continuare. Hai ragione, è davvero il momento giusto. Sì, senza alcun dubbio, era nell'aria. No, proprio non c'è. Sembra quasi che abbiano aspettato di arrivare a questo per segnare. Incredibile. Marco, davvero una botta tremenda, non credi? Gli avversari saranno colpiti al cuore. Sensazionale. Sembra quasi che abbiano fatto il colpo quando nessuno più se l'aspettava. Non hanno altra scelta se non provarci. Sono distrutti. Stanno buttando via la partita. Ora devono gettarsi in avanti con giudizio. Sì, non più di quanto meritassero. Questo è un incontro in altalena che continua a cambiare da un minuto all'altro. Assolutamente meritato. Sei in completo controllo della partita. Penso proprio di sì. Adesso deve scalare una montagna. Sì, e hanno saputo cogliere l'attimo adesso. Penso che possano segnare ancora. Pagherei per sapere cosa l'allenatore ha detto durante l'intervallo. Sono usciti scatenati dal tunnel degli spogliatoi. Sì, sembrano davvero determinati. Beh, hanno giocatori per vincere, ma c'è ancora molto tempo per pareggiare. Marco, per i tifosi un gol ha sempre una grande notizia. Sì, Marco, era quello di cui la partita aveva bisogno per ravvivarsi. Sì, certamente. Però adesso dovranno focalizzare le loro energie sulla ricerca del pareggio. Non potrebbero essere più vicini al traguardo. Stanno cercando disperatamente la vittoria. Non se le cureranno molto fino a quando saranno in vantaggio, ma dovranno lottare con il coltello fra i denti fino all'ultimo. Impossibile dirlo. Penso che entrambe le squadre possano vincere grazie a un episodio. Marco, penso che adesso abbiano il vento in poppa. Adesso devo dire che sono i favoriti per la vittoria finale. Sì, è vero, dovranno segnare un altro gol se vogliono andare avanti. Penso che ce la possano fare. Al momento sono ancora eliminati per via della regola dei gol segnati in trasferta. Sono in una posizione di forza adesso, ma non possono permettersi pause o cali di tensione. Sì, se non fanno stupidaggini in difesa. Marco, certamente adesso potranno gestire la partita da una posizione di forza. Sì, ma non c'è tempo per l'autocompiacimento. Non possono permettersi alcun calo di tensione. Penso che adesso abbiano una situazione sotto... Sì, la speranza è che adesso possano giocare scioltezza e senza tensione. Sì, fra andata e ritorno sono stati chiaramente i più forti. Sì, questo gol corona un'ottima prestazione fra andata e ritorno. Marco, non possono permettersi di mollare adesso. Hanno ancora una possibilità. Non vedo perché non potrebbero. Se l'hanno fatto una volta potrebbero benissimo farlo ancora. Sì, Marco, ci vuole qualcosa di speciale per raddrizzare questo incontro. Ma non si sa mai. Sì, ma sono ancora sotto di due gol nelle due partite. Hai ragione, Marco. A meno che non accada qualcosa di veramente... Certo, ma il pareggio è ancora lontanissimo. Non è vero? Sì, ma è comunque bello vederli lottare fino alla fine. Sì, sono molto contrariati per la loro prestazione. Sono stati completamente dominati. Sì, a questo punto sono avanti per la regola dei gol in trasferenza. Sì, ma la tensione si può tagliare a fetta in questo momento. Devono tenere la concentrazione altissima. Un altro gol per entrambe le squadre sarebbe decisivo. Sì, devono segnare ancora se vogliono classificarsi. Sì, dovranno dar fondo a tutte le loro risorse se vorranno rientrare in partita. Sì, non è facile, ma devono segnare a ogni costo. Sì, sono ancora sopra, ma mi sembrano piuttosto nervosi. Sì, ma devono rimanere concentrati sulla partita ancora più di prima. Sì, devono assicurarsi di restare concentrati, anche se non mi paiono in gran spolvero. Che ne dici? Non penso proprio. Basta che mantengono la tensione alta. Sì, ma non c'è alcun motivo per farsi prendere dal panico. Stanno giocando bene. Hai ragione, Marco. Basterà che si assicurino di non commettere altri errori. Sì, sono tranquilli anche a dispetto del gol subito. Sì, non c'è alcun pericolo che possano buttare via la partita. Non li vedo bene. In qualche modo devono tornare a galla. Devono farlo assolutamente se non vogliono uscire di scena. Sì, adesso devono lanciarsi all'assalto. Non hanno altra scelta se non ridurre al massimo i rischi. Marco, bisogna dire che sarà molto difficile. Stanno perdendo qualità nelle zone vitali del campo. Sì, onestamente però mi sembrano un passo dal cedere di schianto. Sì, sarà difficile vederli risalire adesso. Penso che debbano scalare una montagna insormontabile. Sì, nemmeno un miracolo potrà salvarli adesso. Beh, quando pensi come hanno giocato, bisogna con... Sì, non c'è molto da giocare. Da questa posizione potrebbero anche aver messo una serie ipoteca sulla partita. Se fossi uno scommettitore, punterei tutto sulla loro vittoria adesso. È sufficiente che tengano duro. Sì, e potrebbe essere decisivo in questo momento della partita. Marco, non hanno altra scelta se non quella di gettarsi a capofi... Beh, non devono lasciarsi andare adesso. Devono riorganizzarsi e dare il 110% in campo. Nell'ottica di un tifoso, un gol è sempre una buona notizia. La loro unica possibilità è di gettarsi a capofitto in avanti e sperare che succeda qualcosa. Sì, o la va o la spacca. Hanno bisogno di segnare subito per rientrare di nuovo in partita. Bene Marco, adesso dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo. Certo, ma devono star calmi. Un passaggio fuori misura potrebbe far perdere loro la partita. Penso che non cederanno, visto tutto quello che hanno faticato per andare in vantaggio. Penso che faranno di tutto per resistere. Penso che non ci sia più scampo a questo punto. Beh, finché l'arbitro non fischia non è finita. Ma non penso che riusciranno a recuperare a questo punto. Gran colpo di coda. Chi avrebbe mai pensato che potessero riuscire a pareggiare? Davvero incredibile. Sembravano al sicuro. Credo che non cambierà per nulla. Ci sono abituati a questo. Sarei molto sorpreso. Penso che dovrebbero continuare così e cercare il secondo gol. Penso che potrebbe essere molto importante per tutto il resto della partita. Penso sia importante rientrare subito in partita. E' di vitale importanza che non ne subiscono un altro. Altrimenti sarebbero pressoché finiti. Marco, penso che sia il caso di cambiare alla svelta. Hanno ancora tempo per riservare. Marco, la loro partita comincia qui. Vediamo la loro reazione. Devono stare attenti. Hanno ottenuto il vantaggio. Certamente, Marco. Niente. Meglio di un gol galvanizza una squadra. Questo gol dà la loro sicurezza. Senza alcun dubbio. La questione è se riusciranno meno a mantenere il vantaggio. Chiudersi troppo in difesa potrebbe essere pericoloso. Soprattutto quando hai un solo gol di vantaggio. Penso che dovrebbe dire alla squadra di non farsi prendere dal panico. Di continuare a giocare. Assolutamente. Penso che possa rendere le cose più interessanti. E sarei sorpreso di non vedere altri gol. Penso proprio di no. E sono certo che saranno determinati a cercare il pareggio quanto più rapidamente possibile. Sì, ma non è la fine del mondo. C'è ancora tantissimo tempo per rientrare in partita. Sì, il portiere sarà un po' contrariato. Eh sì, mi sa che i difensori devono stare un po' più attenti. Sì, Marco. I giocatori non devono perdere la calma o ne subiranno un altro. Eh sì, Marco. Ora forse assisteremo a un cambio tattico. Eh sì, penso che assisteremo a una bella partita. Sì, vediamo se riescono a sfruttare il momento favorevole. Sì, Marco. Mi chiedo se riusciranno a prendere in mano le redini del gioco. Marco, sicuramente i giocatori vorranno provare a segnare ancora. Certamente. Saranno esaltati dal pareggio. Sì, speriamo di vedere un gioco un po' più offensivo adesso. Penso che non si fermeranno e cercheranno la vittoria. Sì, adesso che hanno pareggiato non escluderei che riuscissero persino a centrare la vittoria. Assolutamente. Darà loro una grande carica e penso che le cose cambieranno da qui in avanti. Cercheranno di rialzare la testa e riguadagnare in ogni modo il vantaggio. La speranza che non abbiano perso l'onda giusta. Sarebbe davvero ridicolo che gettassero via la partita. Sì, ma non penso che sarà l'ultimo stravolgimento dell'incontro. Hai ragione, Marco. È una gioia essere qui a vederla. È interessante vedere quale delle due squadre possa volgere a proprio favore la situazione e vincere la partita, Marco. Sì, stanno dettando legge e sono in completo controllo del match adesso. Hanno cominciato ad allungare il passo, vero Marco? Difficile da dire. Essere avanti di due gole psicologicamente... Eh sì, il calcio sembra non aver segreti per loro. Certo, penso che oggi la squadra sia davvero in forma. Beh, sono sicuro che l'allenatore dirà loro di marcare stretto dietro. Caro Marco, viste le loro condizioni di forma credo che non siano ancora sazi. Eh sì, penso che l'allenamento duro stia dando i frutti sperati ora. Sì, sono esaltati dal loro vantaggio. Beh, Marco, se mantengono questo ritmo possono segnarne tranquillamente un altro. Assolutamente, Marco, gli avversari dovrebbero prendere appunti. Puoi scommetterci, questa squadra sta mostrando sempre più sicurezza. Non lo so proprio, Marco. Penso che al contrario continueranno a pigiare sull'acceleratore. Penso che dovrebbe fare di tutto per tenere alto il loro morale. Beh, la difesa deve farsi di sicuro un esame di coscienza. Penso che tu abbia ragione, Marco. Con due gol di svantaggio qualcosa dovrà pur cambiare. Senza dubbio, Marco. Eh sì, i tifosi saranno a pezzi per questa prestazione. Sì, ci sarà sicuramente qualcuno che dovrà chinare il capo qui. Beh, niente è impossibile nel calcio. Devono solo rimanere concentrati. Beh, Marco, sicuramente è necessario rivedere lo schieramento tattico. Beh, i due gol di svantaggio dimostrano che la partita non è stata preparata con cura. Beh, può darsi, ma credo che non stiano spingendo a sufficienza per creare occasioni da rete. Niente affatto, la partita non è ancora finita. Devono stare concentrati e la vittoria sarà loro. Marco, non vogliono prendersi rischi inutili. La partita non è ancora finita. Marco, sono in completo controllo della partita. Questo vantaggio potrebbe essere sufficiente per loro. Sì, non sembrano riuscire a fare squadra oggi. Credo che l'allenatore abbia tutto nelle proprie mani. Devono assolutamente riorganizzarsi in difesa, altrimenti potrebbero subirne un altro. Beh, non è impossibile recuperare uno svantaggio di due gol. Vediamo se riescono a restare concentrati. Beh, sarei ovviamente soddisfatto, ma cercherei di restare concentrato per continuare a giocare bene. Assolutamente, è molto importante che i giocatori mantengano la concentrazione. È comprensibile, devono sostenere la loro squadra. È molto importante per i giocatori in campo. Senza dubbio, gli avversari dovrebbero prendere appunti. Beh, è fondamentale mantenere la concentrazione. Certo che se continuano a creare occasioni possono segnare ancora. Certo, Marco, ma non dimenticare che nel calcio nulla è impossibile. Ho l'impressione che adotteranno uno schema più difensivo per conservare il vantaggio. Beh, devono riuscire a sfruttare il momento di appagamento degli avversari. Vediamo cosa riescono a fare. Sicuramente sì. Penso che vedremo alcuni cambiamenti tattici da entrambe le parti adesso. Sembra tutto finito, hai ragione. Ma credo che farebbero meglio non abbassare la guardia. Eh, penso proprio di sì. Direi che la loro prestazione mette a tacere ogni dubbio. Eh, buona domanda. Fino a questo momento non mi sembra che ci abbiano capito molto. Difficile da dire. Non sembra che abbiano mai giocato a sì. Se riuscissero a segnare almeno un gol, potrebbero pensare a una rimonta. Sono avanti di tre gol e tutto va secondo i loro piani. Vero, Marco? Sì, Marco. Penso sia il caso di cominciare a pensare a una conclusione anticipata rispetto alle attese. Sì, penso che possano stare tranquilli. Oggi stanno giocando in modo fantastico. Marco, non accade spesso che una squadra getti via un vantaggio simile. Sono stati straordinari oggi. Hai ragione, Marco. Sembrano perfetti oggi in ogni settore del campo. Davvero inarrestabili. Sta diventando una disfatta. Non c'è davvero partita. Perdere si può, ma non in questo modo. Non possono mollare così. Sì, non c'è molto che possano fare oggi. Sì, è una vergogna. Pensavo che ci sarebbe stata più... In partite come questa non ci si può permettere nessun calo di... Fino a quando rimarranno concentrati? Non vedo perché no. Certamente. Sembravano più in palla e i passaggi erano diventati più precisi. Adesso hanno una marcia in più. Sembrano proprio a corto di idee. Penso che l'allenatore debba scuoterli. È in fretta. Marco, non vedo alcun motivo per disperarsi. Devono soltanto riboccarsi le maniche. Marco, se danno tutto fino al fischio di chiusura, chi può dire di no? Beh, quantomeno il gol gli ha dato una possibilità straordinaria per farlo. Sì, non hanno ancora alzato bandiera bianca. Non sarei sorpreso se alla fine pareggiassero. In maniera definitiva, Marco, questo gol certamente riapre i giochi. Penso di sì, ma stanno rischiando di perdere il momento buono per chiudere il conto. Beh, se lo hanno fatto devono invertire la marcia immediatamente. Questa partita può essere ancora vinta. Stanno difendendo bene. Sono stati soltanto un po' sfortunati e non dovrebbero farsi prendere dal panico. Sì, credo che forse abbiano capito che il recupero è a portata di mano. Certamente, non hanno perso la concentrazione e sono stati premiati. Eh sì, se gli avversari prendono l'iniziativa può essere dura per i giocatori. Sì, infatti, alcuni bookmakers saranno seriamente preoccupati. Non mi sembra. Ma se segnassero ancora allora tutto sarebbe possibile. Sì, hanno ancora molto da fare prima di rientrare veramente in partita. Forse no, effettivamente. Ma non possono più permettersi distrazioni. Eh, hai ragione. Finora sono stati dominati. Sì, credo che rivedranno questo gol in televisione. È vero. Ma può succedere di tutto. Chi può saperlo? Sì, sono ancora in controllo del match. Basta che cerchino le cose semplici e tutto andrà a posto. Penso che tu abbia ragione. Sinora sono stati completamente fuori partita. No, affatto. Penso che l'unica consolazione... Sì, non hanno avuto molti problemi oggi. No. Questa partita è già in archivio. È soltanto il più classico dei gol della bandiera. Sì, quando si parla di ispirazioni, eccone un esempio. Sì. E adesso sarà difficile lasciarlo ancora in panchina. Ha segnato il gol che voleva l'allenatore. È vero. Talvolta le sostituzioni possono funzionare. Come in questo caso. Non si può mai sapere. Oh, questo è un pallone filtrante davvero meraviglioso. Meraviglioso passaggio filtrante. Uh, gran classe. Potrebbe essere interessante. Ce l'ha fatta. Il pallone ha sorpreso i difensori. Gran passaggio. Pallone perfetto. Che palla. Questo sembra davvero pericoloso. Passaggio millimetrico. Il passaggio filtrante ha messo in difficoltà la difesa. La difesa deve stare attenta in questo caso. Tutto a suo quadro con questo passaggio filtrante. Non c'è tregua per la difesa qui. Il terzino non deve mollare la presa qui. Un buon passaggio smarcante mette sotto pressione la difesa. Il terzino destro deve stare allerta qui. Questa palla filtrante ha creato scompiglio. I difensori sono letteralmente in difficoltà qui. Palla filtrante con discesa sulla sinistra. Ecco un'opportunità. Difesa lenta qui. Potrebbe esorgere un pericolo. Ottima corsa verso il pallone. Questo è un pericolo per la difesa. Riceve palle e si invola. È veramente veloce a sovrapporsi. Un'intelligente sovrapposizione del difensore. Ha fatto bene ad aiutare gli attaccanti. Hanno più uomini del solito in avanti e questo sta causando parecchi problemi alla difesa. Una buona sovrapposizione con ottimo tempismo. Questa sovrapposizione promette molto bene. Intervento provvidenziale. Ottima scelta di tempo del difensore. Passaggio filtrante impreciso. Pericolo scongiurato. Con questa pessima palla filtrante regala il possesso agli avversari. Passaggio preciso dopo l'ottimo recupero. Dunque è stato concesso un corner. Non hanno ancora allontanato il pericolo. Sarà calcio d'angolo. Bell'intervento ha provocato una rimessa. Buona giocata difensiva. Il pallone è stato messo in fallo laterale. Deve cercare di passarla adesso. Buon intervento ma non può fare tutto da solo. Sarebbe potuta essere una grande opportunità ma il passaggio non è stato abbastanza preciso. Un pallone migliore avrebbe potuto portare a qualcosa di meglio stavolta. Forse l'ha colpita un po' troppo forte. È dentro in area. Gran visuale di gioco. Non possono sprecare quest'occasione. Vediamo cosa riescono a fare adesso. Sinora sembra molto promettente. Questa è una grande opportunità. Devono riuscire a sfruttare questa occasione. Buona giocata. La difesa sembra molto sicura. Eccellente giocata difensiva. Passaggio intercettato e palla allontanata. Ottima scelta di tempo e possesso palla recuperato. Ottima giocata dopo l'intervento. Il passaggio filtrante non ha avuto esito ma sarà calcio d'angolo. Non possono permettersi di sbagliare in situazioni come questa. Messa provvidenzialmente in corner. Con un ottimo intervento difensivo mette la palla in fallo laterale. Il passaggio filtrante è stato intercettato e spedito in fallo laterale. Se non la passa in fretta finirà per perderla. Nessuno va sul pallone. La difesa è troppo esposta. Guarda qui. Perfetto 1-2 Impressionante 1-2 Buon 1-2 Eseguito perfettamente Da poesia del calcio straordinario Ci stanno riuscendo Marco Incredibilmente fiducioso di sé Lavorano benissimo in tandem Giocata istintiva Buon passaggio con tocco delizioso Sembra una possibilità interessante Stanno capovolgendo il fronte offensivo Grande possibilità di imbastire un contropiede Adesso sono loro da avere la possibilità di segnare Stanno creandosi lo spazio per andare al tiro Ecco una grande opportunità La difesa deve marcare a uomo adesso Una fantastica fuga che mette in crisi la difesa Ottimo contrattacco Ha messo in fuorigioco la difesa Ottima giocata Sembra facile ma questo intervento è davvero straordinario Fermato molto bene Straordinario anticipo Uuuuh davvero un passaggio da dimenticare Brutto passaggio Era sulla traiettoria e l'ha intercettato Istintivamente è riuscito a intercettare il passaggio Mossa furbissima per recuperare il pallone Mossa furbissima per bloccare il passaggio Non sono sicuro di aver capito chi era diretto il passaggio In nessun modo avrebbe potuto raggiungerla Non combineranno molto con passaggi come questi Mal giocata Deve alzare la testa prima di giocare il pallone Incredibile uno scatto poderoso Sembra così sicuro di sé Scatto straordinario Buon pomeriggio e benvenuti Sono Marco Meccia Buon pomeriggio a tutti e ben sintonizzati Salve e buon pomeriggio La squadra e la terna arbitraria Buon pomeriggio e bentrovati E Marco Meccia che vi Buon pomeriggio a tutti da Marco Meccia Manca poco Buon pomeriggio da Marco Meccia Che seguirà per voi questo incontro Benvenuti all'incontro di questo pomeriggio I giocatori stanno Un caloroso benvenuto a tutti Qui con me c'è un grande esperto di calcio E Mauro Sandreani Buon pomeriggio e benvenuti Il match sta per cominciare Un caloroso saluto a tutti Sono Marco Meccia E Acquadio Oggi ci attende un pomeriggio di grande calcio Ci sarà da divertirsi Buon pomeriggio a tutti i telespettatori Sono Marco Buon pomeriggio e bentrovati A seguire la partita di oggi Un saluto a tutti Da Marco Meccia e Mauro Sandreani I giocatori e la terna arbitraria Buon pomeriggio da Marco Meccia I tifosi stanno prendendo posto Buonasera e bentrovati Tutto è pronto per il fischio d'inizio Amici telespettatori Buonasera Le squadre stanno entrando sul terreno Buonasera a tutti C'è grande attesa per questo match I tifosi e gli spettatori Buonasera da Marco Meccia Qui accanto a me Un saluto a tutti i telespettatori E Marco Meccia che vi parla Buonasera a tutti Da Marco Meccia e da Mauro Sandreani Buonasera a tutti e ben ritrovati per l'incontro di questa sera Tutto è quasi Buonasera a tutti A seguire il match Qui con me ci sarà Un saluto a tutti da Marco Meccia Speriamo che l'incontro di stasera ci regali Buonasera a tutti Un saluto in particolare a Mauro Sandreani Che stasera Un saluto a tutti i telespettatori da Marco Meccia Qui accanto a me c'è Mauro Sandreani Buonasera La partita sta per avere inizio Qui con Buonasera e ben ritrovati Sono Marco Meccia Salve e benvenuti Manca poco l'inizio della partita Cari telespettatori Buonasera Siamo tutti pronti ad assistere a 90 minuti So che i giocatori di entrambe le squadre sono dei gran combattenti Vediamo cosa succederà in campo stasera Sarà pure un amichevole ma sono sicuro che i giocatori scenderanno in C'è grande tensione tra le due squadre Speriamo che ci facciano divertire con delle belle giocate oggi Anche se è un amichevole non credo che i giocatori siano demotivati I giocatori di entrambe le squadre sanno che è un amichevole Ma si daranno battaglia Anche se è solo un amichevole in campo ci sono molti giocatori L'incontro di oggi è atteso dagli appassionati di calcio di tutto il mondo Sono sicuro che le due squadre ci faranno vedere del grande calcio oggi Nonostante sia un amichevole sono sicuro che più di un giocatore Anche se non c'è nulla in palio oggi Entrambe le squadre anche se non c'è niente in palio Sono sicuro che gli allenatori è solo un amichevole Ma i protagonisti si affronteranno a viso aperto I tifosi e i due allenatori sperano come noi di assistere Sulla carta è un amichevole Ma sono convinto che assisteremo ad una partita vera Anche se è solo un amichevole I tifosi di entrambe le squadre Nonostante sia un amichevole C'è talmente tanta voglia di fare Tutti sanno che il risultato di questa partita non ha alcun valore Ma sono sicuro che i tifosi di entrambe le squadre Hanno creato l'atmosfera giusta per una grande partita I giocatori e i tifosi delle due squadre sono carichi al punto Questo incontro non mette in palio nulla sulla carta Ma i giocatori in campo sono I giornali non hanno parlato d'altro in questi giorni Ed ora è arrivato il momento dell'incontro d'esordio Il grande giorno dell'esordio nel girone di qualificazione è arrivato Dopo un estenuante martellamento sulle testate Quindi entrambe le squadre cercheranno i tre punti La prima partita del girone Fondamentale per iniziare la competizione con il piede giusto Dopo una lunga attesa siamo finalmente arrivati alla prima partita della fase a gironi I tifosi, gli allenatori e i giocatori hanno aspettato per lungo tempo L'inizio del primo match del girone di qualificazione La fase a gironi è iniziata da poco Ma c'è già molto Siamo ancora nelle fasi iniziali È la seconda partita del girone Ma la tensione è molto alta Entrambe le squadre Siamo all'inizio della competizione Sta per iniziare la seconda partita del girone Il girone è iniziato da poco Ma entrambe le squadre vogliono assolutamente Anche se è solo la seconda partita I giocatori sono sotto pressione Siamo a metà del girone E le squadre devono cercare a tutti i costi di portare a casa punti preziosi Siamo arrivati a metà della fase a gironi E le due squadre sono pronte per affrontarsi E siamo al giro di boa del girone Entrambe le squadre sono entrate in campo determinate Per cercare di migliorare i risultati Siamo a metà del girone E i tifosi sono a corsi in massa Per creare la giusta atmosfera nello stadio I tifosi delle due squadre Si stanno facendo davvero sentire per questa partita Mancano solo tre partite al termine del girone E la tensione è altissima Mancano solo tre partite alla fine del girone E sicuramente i giocatori scenderanno in campo Restano altre tre partite da giocare con quella di oggi E i giocatori daranno l'anima per ottenere C'è un'atmosfera stupenda oggi allo stadio Per questa partita del girone Speriamo che ci sono ancora tre partite da disputare nel girone Sicuramente i giocatori sono sotto pressione Sono rimaste soltanto due partite da disputare nella prima fase E i giocatori mancano due partite al termine del girone E le due squadre stanno entrando sul terreno di gioco Perché sanno che il risultato può condizionare il cammino Nella competizione delle due squadre Se quello che è stato scritto sui giornali è vero Oggi in campo assisteremo ad una vera battaglia Mancano solo due incontri al termine della prima fase E le due squadre sono scese in campo pronte Il penultimo incontro della prima fase sta per avere inizio E i giocatori in campo sono pronti per la grande sfida Tutto è pronto per l'inizio dell'ultima partita della prima fase Entrambe le squadre Siamo finalmente giunti al termine della prima fase Se le affermazioni appare E l'ultimo incontro della prima fase Le squadre saranno sicuramente cariche al massimo E cercheranno di vincere a tutti i costi Le motivazioni di sicuro non mancano in questo incontro Che chiude la prima fase È l'ultima partita della fase a Gironi E i giocatori daranno il massimo per portare a casa i tre punti Entrambe le squadre sanno che questo incontro della fase a Gironi È di estrema importanza Senza dubbio le due squadre cercheranno di portare a casa un buon risultato Perché sanno che i punti con cui i tifosi Sono letteralmente scatenati sugli spalti E questo è un chiaro segnale dell'importanza Di questa partita della fase a Gironi per le due È una partita della fase a Gironi È particolarmente importante È l'atmosfera creata dai tifosi qui allo stadio E oggi sono in palio punti importanti per la prima fase Ho parlato con alcuni colleghi della carta stampata E vi posso garantire che è la prima partita della seconda fase I giocatori vogliono assolutamente vincere per passare il turno Credo che ci sia Il pubblico è ansioso di assistere a questa prima partita valevole per la seconda fase Non so se le squadre sapranno Siamo alla prima partita della seconda fase E le squadre affronteranno questo impegno Sicuramente i giocatori in campo faranno di tutto per vincere La posta in palio oggi è alta Visto che una vittoria significerebbe la qualificazione al turno successivo Siamo al primo dentro o fuori del torneo E una vittoria comporta la qualificazione al turno successivo È l'incontro d'andata del primo turno eliminatorio E le due squadre sono pronte ad affrontarsi in questa sfida d'andata del primo turno eliminatorio Ed è la partita d'andata del primo turno eliminatorio E lo stadio è una vera bolgia I sostenitori delle due Prepariamoci ad assistere ad un incontro emozionante Vi consiglio di non cambiare canale Perché ci sono tutte le premesse per assistere ad una fantastica sfida Che ci faranno senz'altro divertire Con delle splendide giocate e molto agonismo È la partita d'andata del primo turno eliminatorio E i tifosi delle due squadre sono accorsi in massa Siamo tutti pronti per questo quarto di finale tra le due squadre E speriamo di assistere ad una sfida Siamo ai quarti di finale E i tifosi sono letteralmente in delirio Entrambe le squadre sono pronte ad affrontarsi in questo quarto di finale E i tifosi sono già carichi al punto giusto Credo tutto il mondo agli occhi puntati sulla partita E i giocatori saranno sicuramente sotto pressione Tutto sta per iniziare questo quarto di finale I tifosi hanno già riempito lo stadio E questa è la semifinale del torneo È davvero incredibile l'entusiasmo dei tifosi I giocatori stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco Mentre i tifosi hanno riempito Non si può certo dire che manchi l'entusiasmo E sono pronti a sfidarsi per conquistare un posto in finale Le due squadre si è finalmente arrivato il momento della semifinale E sicuramente a questo punto del torneo Tutte le squadre più o meno si equivalgono sulla carta Ma sappiamo che in queste partite abbiamo atteso a lungo questa finale Ma alla fine è il momento che stavamo tutti Ormai è tutto pronto per il fischio d'inizio di questa finale E sicuramente sugli spalti non manca l'entusiasmo Sentite l'entusiasmo dei tifosi sugli spalti Le due squadre sono pronte oggi a darsi battaglia Per contendersi il titolo di Ho assistito a molte finali Ma è sempre una grande... E' arrivato il momento che tutti stavamo aspettando E' bello vedere con che entusiasmo i tifosi si stanno preparando ad assistere a questa finale E' lo spareggio per il terzo posto Ed entrambe le squadre saranno sicuramente affrante Per non avere raggiunto la finale Sono sicuro che entrambe le squadre hanno superato la delusione della sconfitta in semifinale E lotteranno per conquistare... Nonostante la sconfitta in semifinale Sono certo che entrambe le squadre saranno in grado di recuperare I giocatori non avranno sicuramente preso bene la sconfitta in semifinale Ma sono sicuro che siamo pronti ad assistere alla finale per il terzo posto Se le due squadre sono... Dopo la vittoria dell'andata Qualcuno potrebbe pensare che siano venuti qui solo per difendere il vantaggio La vittoria dell'andata consente di giocare una gara d'attesa Ma ho la netta sensazione che loro allenatori... E' vero, hanno vinto la partita d'andata Ma l'allenatore potrebbe... Dopo il pareggio a reti inviolata l'andata I giocatori delle due squadre... Dopo il pareggio senza reti dell'andata Sono sicuro che i giocatori affronteranno... Le tifoserie sono giunte allo stadio per incitare le due squadre e spingerle... Dopo il pareggio in casa dell'andata Sanno di non avere alternative in questa partita in trasferta Dopo il pareggio in casa nella partita d'andata Non possono permettersi altri passi I giocatori sono molto tesi Perché sanno che devono giocare per la vittoria Dopo il pareggio dell'andata in casa Dopo il pareggio in trasferta dell'andata Sono favoriti per il passaggio del primo turno Dopo aver conquistato un prezioso pareggio in trasferta all'andata Sono favoriti per il passaggio al prossimo turno Dopo il pareggio ottenuto nella partita d'andata Fuori dalle mura amiche La sconfitta nella partita di andata Li ha messi con le spalle al muro Ora la sconfitta nella gara di andata Li costringerà a correre non po' Dopo la sconfitta dell'andata Partono con lo sfavore dei pronostici Sanno di non avere altro Questa partita di andata dei quarti di finale Promette di regalarci grandi emozioni Visto che le due squadre schierano gioco Entrambe le squadre arrivano a questa partita d'andata Dei quarti di finale Determinate a portare a casa una vittoria Siamo pronti ad assistere a questa partita d'andata Dei quarti di finale E sono sicuro che ci aspetta una partita Dopo la vittoria conquistata nella partita di andata Gli esperti pensano che adotteranno una tattica difensiva La vittoria nella partita di andata Li mette nelle condizioni di poter gestire il vantaggio Ma ho sentito che Nonostante la vittoria dell'andata Il loro allenatore potrebbe decidere di non adottare Dopo il pareggio a reti inviolate dell'andata Le due squadre si affronteranno con l'obiettivo di segnare C'è la semifinale in palio E le due squadre giocheranno questa partita di ritorno Cercando in tutti i modi di segnare Il pareggio a reti bianche dell'andata Ha creato le premesse per un incontro Che si preannuncia carico di forza Dopo il deludente pareggio tenuto in casa Nella partita di andata Mi chiedo se saranno in grado di far valere le loro quali Non hanno affatto alternative dopo il pareggio in casa dell'andata Devono assolutamente cercare la vittoria C'è grande pressione sui giocatori oggi Che sanno di non poter sbagliare questa partita Il pareggio tenuto in trasferta nell'andata di questi quarti di finale Dà loro una certa sicurezza Dopo il pareggio tenuto fuori casa nell'andata dei quarti di finale Ma potrebbero cercare anche di impostare una gara offensiva Dopo il pareggio tenuto in trasferta nell'andata dei quarti di finale Sono favoriti per il passaggio alle semifinali Affronteranno questa gara di ritorno dei quarti di finale Dopo la brutta sconfitta dell'andata La pressione sui giocatori Sicuramente la sconfitta dell'andata dei quarti non li aiuta Sanno di Beh, non credo che con l'organico che si ritrovano partano battuti Ma è l'andata della semifinale fra queste due squadre Sentite che entusiasmo sugli spalti I tifosi Questa partita d'andata delle semifinali Si preannuncia una sfida all'ultimo colpo Fra due squadre molto combattive Siamo nell'andata della semifinale E sicuramente le motivazioni non mancano Entrambe le squadre daranno il Sono ad un passo dalla finale dopo la vittoria nella partita di andata Basterebbe mantenere Solo 90 minuti li separano dalla finale E i sostenitori sono già nello stadio pronti per Dopo la vittoria nella partita di andata Sono a un passo dalla finale L'atmosfera nello stadio è veramente per raggiungere questo splendido traguardo Dopo il pareggio a reti inviolate dell'andata Le due squadre cercheranno sicuramente di segnare oggi Credo che entrambe le squadre giocheranno una partita d'attacco Dopo il pareggio a reti bianche nella partita di andata di questa semifinale La prima partita in casa è finita in pareggio E ora devono assolutamente cercare di vincere per poter raggiungere la finale Devono cercare di vincere se vogliono essere sicuri di arrivare in finale Affrontano questa partita dopo il pareggio casalingo dell'andata Per questo è importante che l'allenatore abbia lavorato Dopo il pareggio tenuto fuori casa nella partita di andata di questa semifinale Devono riuscire a non subire Il pareggio in trasferta nella partita di andata della semifinale Permette alla squadra di partire con i favori Sono riusciti a strappare un pareggio in trasferta nell'andata di questa semifinale La sconfitta subita nella partita di andata della semifinale Non ha fatto certo bene al morale della squadra Che oggi deve cercare di ribaltare La sconfitta subita all'andata della semifinale sicuramente brucia ancora Ma sei loro La sconfitta dell'andata è stata senza dubbio dura da digerire Ma ora devono concentrarsi su questa partita È la partita di andata della finale I tifosi sono letteralmente in delirio Stanno incitando Entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia E i tifosi hanno preparato un'accoglienza davvero unica Mancano solo 90 minuti alla conquista del titolo Dopo la vittoria dell'andata Dopo la partita d'andata Sono sicuramente favoriti E un match di puro contenimento potrebbe essere sufficiente La differenza dei valori tecnici fra le due squadre è minima Perciò tutto dipenderà dall'atteggiamento mentale Con tutti questi campioni in campo Credo che vedremo una partita molto offensiva da parte delle due squadre Dopo il pareggio ottenuto nella gara di andata in casa La vittoria è l'unico risultato utile per vincere il torneo Tutti gli occhi arrivano a questo appuntamento Con la consapevolezza che solo una vittoria Possono fare la differenza Ma è importante che i giocatori più forti non sbaglino nulla oggi Dopo il pareggio ottenuto in trasferta nella gara di andata di questa finale Sicuramente il pareggio in trasferta li mette nelle condizioni giuste per poter far bene La sconfitta subita nella partita di andata li condizionerà sicuramente La sconfitta dell'andata sicuramente non li aiuta Conoscendo la professionalità dei giocatori delle due squadre Sono sicuro che avranno superato la delusione Credo nessuna delle due squadre abbia alcuna intenzione Le due squadre hanno certamente superato la delusione per la sconfitta La rabbia dei giocatori per la finale mancata potrebbe giocare brutta Dopo la vittoria dell'andata sono sicuramente favoriti per vincere questa finale di consolazione Ma ci sono ancora 90 che giocheranno una gara offensiva Cercando di mettere sotto pressione la difesa avversaria 90 minuti li dividono dalla conquista della terza piazza Sono sicuro che dopo il pareggio a reti bianche della partita di andata La terza piazza verrà segnata Per cui prepariamoci ad assistere ad una vera e propria battuta I tifosi sono pronti ad assistere ad una partita ricca di gol Dopo il pareggio senza reti dell'andata Le squadre dopo essere stati costretti ad un pareggio in casa nella partita di andata Hanno a disposizione dei giocatori in grado di ribaltare qualsiasi Non possono dire di essere stati fortunati nella gara di andata terminata in pareggio Ma hanno i giocatori capaci Arrivano a questo appuntamento dopo un pareggio tenuto fuori casa nella gara d'andata Sono riusciti a strappare un pareggio nella gara di andata in trasferta E ora sono sicuramente favore Sono sicuro che i giocatori sono consapevoli di questo Ed entreranno in campo con la giusta mentalità La sconfitta subita li mette in condizioni difficili E dovranno davvero superarsi oggi per ottenere il risultato che c'è Senza dubbio la sconfitta della gara di andata è stato un duro colpo alle loro ambizioni Ma adesso devono concentrarsi E la partita d'andata dello spareggio asiatico fra queste due squadre E il vincitore della sfida arriverà ad un passo dallo spareggio Sicuramente oggi non mancano le motivazioni Visto che il vincitore dello spareggio asiatico Approverà direttamente dopo la vittoria nella gara di andata I tifosi sono convinti che sia ormai alla portata della squadra In palio c'è l'orgoglio nazionale e l'onore Nonostante la vittoria nella gara di andata Non c'è di sicuro il pericolo che la squadra entri in campo demotivata Per cui la posta in palio è molto alta oggi C'è grande rivalità fra le due squadre Sicuramente i protagonisti arriveranno a questo appuntamento Con la motivazione necessaria Non hanno scelta Devono affiondarsi in avanti alla ricerca della vittoria Dopo il pareggio senza reti dell'andata Sicuramente dopo il pareggio casalingo I giocatori e l'allenatore Sanno di dover giocare molto meglio Non mancheranno di sicuro le motivazioni e l'orgoglio nazionale oggi In questa gara di ritorno Per cui mi aspetto una gara aperta e combattuta Ricca di interventi duri e di gol Il loro obiettivo in questa partita di ritorno dello spareggio asiatico È innanzitutto quello di non subire gol Ma per mettere sotto pressione la difesa avversaria Alla ricerca di una rete Arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio in trasferta Nella partita di andata E una partita di contenimento potrebbe essere su E si getteranno in avanti sin dai primi minuti Alla ricerca di un gol Non hanno scelta Devono abbandonare gli indugi E attaccare sin dai primi minuti Perché devono dimostrare di avere l'orgoglio necessario E giocare una partita Dopo la sconfitta dell'andata Questa è la loro ultima chance La pressione sui giocatori è fortissima Riusciranno a ribaltare il risultato dell'andata? Mancano due partite alla gloria Entrambe le squadre avranno sicuramente gli stimoli giusti Per cercare di vincere subito Tutti attendono con ansia l'inizio di questa partita di andata Dello spareggio finale fra le due squadre Sono sicuro Dopo aver entusiasmato i tifosi con la vittoria dell'andata Penseranno solo Credo che oggi l'allenatore abbia detto i suoi Di giocare Sono caricati dalla vittoria dell'andata E i tifosi sono fiduciosi per la sfida di oggi La posta in palio Entrambe le squadre sono a un passo dall'obiettivo Ma solo una potrà accedervi Partono più o meno alla pari dopo il pareggio Siamo a un passo dalle finali E sicuramente non mancano le motivazioni e l'orgoglio nazi Per cui entrambe le squadre daranno tutto quello che hanno Per centrare una vittoria oggi Arrivano a questo appuntamento con l'assoluto bisogno di vincere E sicuramente l'allenatore avrà detto ai suoi di dare il ma Sebbene non sia ancora detta l'ultima parola Il pareggio ottenuto all'andata in casa Li costringe a cercare a tutti Che l'allenatore dovrà fare affidamento per la gara di oggi Dopo il pareggio strappato in trasferta all'andata Sono ad un passo dal trionfo E arrivano a questa ma molto dipenderà dalle motivazioni E dall'attaccamento alla nazionale dei giocatori in campo Entrambe le squadre hanno la possibilità di passare Ma sicuramente sono loro i favoriti Dopo il pareggio strappato Abbiano bisogno di motivazioni Visto che sono 90 E' ovvio che la sconfitta dell'andata ha lasciato il segno Ora non hanno alternative Devono sperare che i loro assi gioca E faranno qualsiasi cosa Pur di conquistare un posto nelle finali Sono stati sconfitti nella gara di andata Ma non sono ancora eliminati Adesso devono dare fondi L'obiettivo è senza dubbio alla loro portata Ma devono iniziare ad attaccare Questo è il primo dei tre incontri di qualificazione Le squadre cercheranno sicuramente di vincere Per iniziare col piede giusto Questa lotteranno come dei leoni Con il rischio di vedere qualche brutto intervento E' la prima partita di qualificazione della fase a gruppi Ed entrambe le squadre vogliono partire con una vittoria Di sicuro i giocatori sanno di avere una grossa responsabilità oggi Perché devono rappresentare la loro nazione Di allenatori e giocatori in campo Vogliono partire col piede giusto E' la seconda partita di qualificazione di questa fase a gruppi Ed entrambe le squadre vogliono migliorare Credo che assisteremo ad una vera e propria battaglia Senza dubbio le squadre vorranno portare a casa punti preziosi In questo incontro della fase a gruppi Potrebbe essere fondamentale per il passaggio alle finali Grande atmosfera qui è lo stadio Dove i tifosi sono a corsa in massa Per aiutare la loro squadra ad ottenere l'accesso alle finali Sono sicuro che ci saranno grandi motivazioni Non deluderanno E' la partita conclusiva di questo raggruppamento Le due squadre cercheranno di fare risultato Per qualificarsi alle finali Siamo qui per assistere a quest'ultima partita di questo gruppo Ed entrambe le squadre sono alla ricerca di un posto nelle finali E' l'ultima partita del gruppo Ed entrambe le squadre cercheranno di ottenere un buon risultato Per avere l'accesso alle finali Dopo una lunga attesa siamo finalmente giunti all'inizio del campionato Il primo incontro del campionato sta per avere inizio Siamo pronti ad assistere ad un... L'inizio del campionato è finalmente arrivato Prepariamoci ad assistere Il campionato è già nelle loro mani Questa partita possa... Avendo già vinto il campionato Possono sfruttare questa partita La tensione alle stelle Si giocano tutto in quest'ultimo incontro del... E' l'ultima partita del campionato I giocatori cercheranno di fare... Beh, questa lunga e tormentata stagione è giunta alla conclusione I giocatori arrivano a questo appuntamento con una condizione fisica e psicologica ottimale Dopo... C'è grande tensione Cosa ci riserveranno i prossimi 90 minuti? Il loro percorso in campionato fino a questo momento è stato perfetto Ma ora non devono sbagliare questa partita La posta in palio è molto alta Chi potrà freggiarsi del titolo di campione? I tifosi hanno già invaso lo stadio Pronti a sostenere le rispettive squadre in questa partita Se i giocatori sono carichi al punto giusto Ci aspetta una partita ricca di... E' la partita più importante della loro stagione Riusciranno ad essere promossi nella categoria superiore? Siamo giunti alla partita più importante della stagione per la squadra Questi 90 minuti riusciranno ad assaporare la gioia della promozione Questa è la partita più importante della loro stagione Riusciranno ad evitare la retrocessione Oggi li attendono incontro a dir poco difficile Un risultato... Questo è probabilmente l'impegno più difficile della stagione C'è grande tensione in campo e sugli spalti oggi Riusciranno ad ottenere un risultato L'incontro di oggi è di vitale importanza per la loro stagione Oggi li attende una vera e propria battaglia Riusciranno ad ottenere... Il nuovo acquisto è pronto a fare il suo debutto oggi Riuscirà già... Entrare a far parte di una nuova squadra Comporta certamente delle difficoltà di adattamento Resta da capire se sarà in grado di reggere alla pressione Non è mai facile adattarsi subito in una nuova squadra Perché oltre al nuovo ambiente hai dei tifosi Questo nuovo acquisto è al debutto E sono curioso di vedere come se la caverà oggi I nuovi acquisti sono stati schierati nell'undici titolare Riusciranno... Le attese e risposte sui nuovi acquisti nella partita del debutto Possono condizionare la loro... I tifosi e l'allenatore hanno grande fiducia Nelle possibilità dei nuovi arrivati Nei giorni che hanno preceduto questa partita Si è molto parlato della squalifica del loro... È un giocatore fondamentale per questa squadra Ma deve prendersela solo... L'allenatore ha dovuto fare molte correzioni Nell'assetto della squadra Vista l'assenza della stella per squalifica L'allenatore è costretto a fare i conti con la forzata assenza del... È un vero peccato per i tifosi e per la squadra Che quelli... Si è parlato molto nei giorni scorsi Dell'assenza forzata del loro giocatore più forte A causa di un infortunio Oggi è il giorno del derby Una partita che vale una stagione anche per i sostenitori Oggi si gioca il derby Una partita in cui l'orgoglio e l'entusiasmo dei tifosi È ancora troppo presto per poter dare un giudizio sulle squadre Anche per degli esperti di calcio come noi La stagione è appena iniziata E credo che alcuni giocatori non abbiano ancora recuperato la forma dopo la sossa estiva Ma conoscendo la loro prof... Senza dubbio alcuni giocatori stanno lavorando sodo per recuperare la forma migliore Siamo ancora le prime battute di questa stagione E anche per degli intendi La stagione è cominciata da poco E alcuni giocatori potrebbero essere con la testa ancora in vacanza Speriamo... La stagione è appena cominciata E anche per degli esperti di calcio come noi Sì, è vero Ci sono molti giocatori ancora indietro nella preparazione È ovvio che alcuni giocatori fatichino a ritrovare la forma migliore In questo primo scorcio di stagione La stagione è iniziata da poco E alcuni giocatori devono assolutamente recuperare dopo la sosta estiva E dopo una prima metà di stagione giocata a grandi livelli Si ritrovano meritatamente in vette alla classifica al Giro di Boa Dopo un'esaltante prima metà di stagione Arrivano al Giro di Boa in testa al campionato Ma anche hanno mostrato una forma eccellente in questo primo scorcio di stagione E non è un caso che si ritrovino nella parte alta della classifica Siamo arrivati al Giro di Boa del campionato E si ritrovano nella parte alta della classifica Se mantengono e giocarsi le loro chance per la conquista del titolo Siamo al termine del girone di andata E si ritrovano invischiati nelle parti basse In questa prima metà di stagione non sono riusciti a trovare la condizione ottimale E ora si ritrovano nella parte bassa Occupano le parti alte della classifica E stanno mostrando un'ottima condizione Stanno facendo vedere dell'ottimo calcio E si trovano con pieno merito nelle parti alte della classifica Tra i pretendenti al titolo Hanno cominciato la stagione molto bene Riuscendo a mantenere un buono stato di forma Ma devono mantenere il passo mostrato in questo ultimo periodo E scongiurare gravi infortuni Non c'è che dire Hanno iniziato la stagione con buoni risultati E sono riusciti a mantenere un buon passo E ora si trovano Sono in condizioni di forma eccellenti E i risultati lo dimostrano Sono nella parte alta della classifica Tra le pretendenti al titolo La classifica parla chiaro La loro condizione fisica e mentale Non è stata certo ottimale nella prima parte di stagione Questa stagione non sta andando per il verso giusto La loro condizione fisica è deficitaria E non riescono per riacquistare fiducia Oggi potrebbe essere l'occasione giusta per ripartire In questo momento della stagione Non sembrano avere la condizione necessaria Una vittoria oggi potrebbe dare la giusta carica alla squadra Si ritrovano lontani dalle zone alte della classifica E non riescono a recuperare la forma E potrebbe ridare la fiducia necessaria E permettere alla squadra di recuperare il terreno perso A questo punto della stagione Si ritrovano attardate rispetto alle squadre Dovranno recuperare il terreno perduto al più presto O con il titolo già al sicuro Questa è una buona occasione Hanno vinto il campionato con largo anticipo E l'allenatore potrebbe... Avendo già vinto il titolo Oggi l'allenatore potrebbe decidere Di far riposare i giocatori più anziani È una buona occasione per far riposare i loro assi Visto che il titolo è già nelle loro mani Hanno già vinto il titolo E possono dare spazio ai giocatori Che sinora hanno avuto poche opportunità A questo punto della stagione sono ancora ai vertici della classifica Tra i pretendenti al titolo Siamo nella fase finale della stagione Sono ancora ai vertici La loro grande condizione ha permesso loro di restare nelle prime posizioni in classifica Grazie alle loro condizioni di forma straordinarie Occupano stabili Devono riuscire a mostrare la solidità che li ha cotrandistinti Anche in... Non si può certo dire che le loro prestazioni siano state esaltanti fino a questo momento Sicuramente l'allenatore... L'allenatore è sicuramente sotto pressione Sa che la sua posizione ora non è certo solo Può garantirgli una certa serenità Almeno fino alla prossima settimana Il cammino della squadra fino a questo punto della stagione è stato sicuramente deludente E la loro... I giocatori hanno assoluto bisogno di una vittoria Soprattutto per riacquistare la fiducia persa Hanno avuto un rendimento molto altalenante E questo spiega perché non sono riusciti a raggiungere le posizioni di vertice L'allenatore spera... La loro condizione di forma è stata dir poco deludente E questo si riflette nella loro posizione in classifica Il primo incontro della stagione è cominciato Cosa dobbiamo attenderci da questo campionato? La nuova stagione è appena iniziata E' il momento... Ecco il calcio d'inizio di questa prima giornata di campionato Ecco il fischio d'inizio Ce la faranno ad essere promossi o li attendono Tutto dipende dal risultato di questa partita Riusciranno a centrare I prossimi 90 minuti saranno decisivi per le ambizioni della squadra Che potrebbe... Questo incontro deciderà la loro sorte Riuscirà... I prossimi 90 minuti decideranno la loro... Tutto dipende dai prossimi 90 minuti Questa partita potrebbe permettere alla squadra... C'è grande tensione oggi Sanno che il risultato di questo incontro... Eccoci qui La partita comincia Riusciranno a vincerla e a laurearsi i campioni? Questa è la partita più importante della stagione per loro La partita comincia Probabilmente la più importante I giocatori hanno una grossa responsabilità L'allenatore... La partita inizia Riusciranno a strappare una vittoria E a provare l'emozione di vincere il titolo Partiti! Una vittoria oggi significherebbe... Hanno ancora la possibilità di vincere il titolo Anche se tutto dipende da cosa succederà sugli altri campi Hanno ancora una piccola possibilità di vincere il titolo Ma non dipende solo da loro Possono soltanto sperare Nei risultati degli altri Ecco il calcio d'inizio Mancano solo 90 minuti al termine della stagione Sono... Eccoci al termine della stagione In questi ultimi 90 minuti I giocatori cercheranno L'ultima partita della stagione è appena iniziata E anche se molti sono già con la testa in... I quarti di finale sono cominciati E questo quarto di finale comincia Questo quarto di finale sta cominciando Ecco la semifinale Tutto è pronto E comincia la semifinale Ecco il fischio che segna l'inizio della semifinale I tifosi sono eccitati La partita sta per cominciare Ed ecco il fischio d'inizio di quella che sarà sicuramente una finale al cardiopalma C'è un'atmosfera fantastica Sta cominciando la finale E la ventesima partita che giochi Grazie della fiducia I tifosi stanno creando un'atmosfera incredibile I tifosi hanno preparato una rumorosa e pittoresca coreografia per questo grande appuntamento Ecco il calcio d'inizio Cosa ci riserverà il match di oggi? Partiti Restate incollati alle vostre poltrone perché ci aspetta una grande sfida Partita che ha inizio Speriamo di assistere ad un incontro esaltante Ecco il fischio d'inizio Siamo pronti ad assistere ad una partita mozzafiato Mettetevi comodi e preparatevi a godervi questo spettacolo eccezionale L'incontro ha inizio Speriamo che non manchi lo spettacolo Grande rivalità fra le due squadre in campo Sarà sicuramente battaglia vera Credo che vedremo molti interventi duri oggi Le due squadre non si amano di certo L'arbitro ha fischiato l'inizio Ci attende una grande partita Speriamo che l'incontro non deluda gli appassionati di calcio E che non manchino il gol e il furore agonistico La partita è iniziata e il pubblico è già in delirio Atmosfera fantastica Oggi allo stadio Questa partita promette fuoco e fiamme Grande spettacolo per gli appassionati di calcio Ecco il calcio d'inizio Gli appassionati di calcio di tutto il mondo Sono pronti a godersi lo spettacolo La gara è appena iniziata e l'atmosfera nello stadio è incredibile La tensione sta già crescendo Partiti! Ci attende una partita memorabile oggi Ecco il calcio d'inizio Che sorprese ci riserverà la partita di oggi? Un boato ha accompagnato il fischio d'inizio Ci attende una partita emozionante e ricca di gol La partita comincia Speriamo di assistere ad un incontro Match che ha inizio I tifosi hanno già cominciato a sostenere a gran voce le loro squadre Il secondo tempo è iniziato Gli allenatori avranno sicuramente avuto qualcosa Inizia il secondo tempo Gli allenatori hanno avuto l'intervallo a disposizione Ecco l'inizio del secondo tempo Sono curioso di vedere I secondi 45 minuti hanno inizio Speriamo di assistere ad un secondo tempo di buon livello Partiti! Vediamo se i giocatori metteranno in pratica i consigli degli allenatori nella ripresa Inizia il secondo tempo I giocatori riusciranno a seguire i consigli dei loro allenatori Il pubblico è tornato ai propri posti Così come gli allenatori E il secondo tempo ha inizio Ecco il fischio d'inizio della ripresa Vediamo se le istruzioni degli allenatori verranno messe in pratica È partita il secondo tempo con le squadre schierate a parti invertite La ripresa ha avuto inizio Speriamo di vedere altri 45 minuti di calcio spumeggiante Si riparte Speriamo solo che il secondo tempo sia intenso come il primo Fischio d'inizio della ripresa Mi chiedo se questo secondo tempo ci riserverà altre sorprese Il secondo tempo comincia Cosa ci riserveranno a questi secondi 45 minuti? Si riparte Spero che il secondo tempo sia divertente almeno quanto il primo Inizia il secondo tempo Sarà più esaltante della prima frazione? Ecco il calcio d'inizio della ripresa Speriamo di assistere ad altri 45 minuti di grande calcio I secondi 45 minuti di gioco hanno inizio Cosa dobbiamo aspettarci da questa ripresa? Partiti! Vediamo se i consigli dell'allenatore sortiranno l'effetto desiderato Ripresa che ha inizio Speriamo di assistere ad un secondo tempo entusiasmante La ripresa è iniziata Riuscirà a regalare ai tifosi più emozioni del primo tempo? Siamo alla morte improvvisa Il prossimo gol deciderà l'incontro Il primo tempo supplementare con la regola del golden goal sta per cominciare Il primo tempo supplementare sta per cominciare La morte improvvisa è dietro l'angolo Vedremo un golden goal nei tempi supplementari? La tensione è davvero insopportabile Le due squadre sanno che un golden goal deciderà l'incontro Vedremo il silver goal nel primo tempo supplementare? Il primo tempo supplementare sta per cominciare Ed entrambe le squadre sono alla ricerca di un silver goal Un silver goal è il fischio che segna la fine del primo tempo Farà terminare l'incontro E sta per cominciare il primo tempo supplementare Il primo tempo supplementare sta per cominciare Sta per cominciare il primo supplementare Dunque, eccoci nel primo supplementare E il primo tempo supplementare sta per cominciare Il secondo tempo supplementare sta per cominciare Eccoci qui per il secondo tempo supplementare Riusciremo a trovare un vincitore in questa situazione estrema Si riuscirà a rompere l'equilibrio nel secondo supplementare? I giocatori saranno vicini all'esaurimento delle proprie energie Quando comincia il secondo tempo supplementare Fino a questo momento è stato impossibile trovare un vincitore Non possono permettersi di perdere oggi La vittoria è un obbligo inderogabile Non devono far altro che vincere Entrambe le squadre sono sul loro del precipizio Non c'è nient'altro da fare che vincere Nessuna delle due squadre può permettersi di perdere Perdere significa retrocessione certa Non c'è via di scampo Adesso calano i loro assi Stanno cercando di completare l'opera Sono in un'ottima situazione Hanno una montagna da scalare I pronostici sono tutti contro di loro Riusciranno a trovare una via d'uscita Sono passati al 343 Sono passati al 352 Sono passati al 361 La formazione passa al 433 Lo schieramento passa al 442 Schiereranno un 451 stavolta Hanno modificato lo schieramento in un 5-2-3 Hanno deciso di passare al 5-3-2 Sono disposti in campo con il 5-4-1 Hanno mantenuto la stessa formazione schierata nella partita precedente Non c'era ragione per variare la formazione Hanno optato per un 343 molto offensivo Hanno optato per il 352 Hanno rinforzato il centrocampo Schierando un insolito 361 Hanno optato per un 433 molto offensivo Hanno scelto il classico 4-4-2 Hanno rinforzato il centrocampo e si schierano con un prudente 4-5-1 Hanno scelto un innovativo 5-2-3 Hanno scelto il 5-3-2 Formazione molto difensiva Hanno scelto il 5-4-1 Partiranno con questa formazione Che ne pensi della tattica scelta, Mauro? Cosa pensi di questa formazione, Mauro? Cominceranno con questa formazione Ti dice qualcosa, Mauro? Cominceranno con questa formazione Cosa ne pensi, Mauro? Questa è la formazione Che cosa ne pensi, Mauro? Mauro, ecco la formazione Che cosa ne dici? Vediamo che tipo di partita ci offriranno queste due squadre Entrambe le squadre sperano in una partenza lanciata della partita Beh, entrambe le squadre hanno talento da vendere E tutto questo rende la partita una classica Sarà interessante vedere come cominceranno la partita Entrambe le squadre cercheranno di premere sull'acceleratore sin dalle prime battute Vediamo quali sorprese ci riserverà questo match Impossibile sapere cosa accadrà in questa partita Vediamo chi sarà più determinato a vincere questo incontro Vedremo un gol nel secondo tempo Quale squadra riuscirà a spezzare l'equilibrio? Vediamo se il secondo tempo sarà tirato come il primo Le squadre non si sono scrollate di dosso la parità Vediamo quale squadra sarà in grado di passare in vantaggio nel secondo tempo La speranza è che i giocatori riescano a segnare alla fine di questo parziale Entrambe le squadre cercheranno di ridurre al massimo gli errori nella ripresa Nessuno dei due allenatori ha ancora effettuato sostituzioni Non c'è alcun segnale di imminenti sostituzioni Entrambi gli allenatori stanno cominciando il secondo tempo allo stesso modo di come avevano finito il primo Nessuno dei due allenatori sembra intenzionato di effettuare dei cambi Per entrambe le squadre non sono in vista sostituzioni Ancora nessuna sostituzione nel secondo tempo Le squadre hanno cambiato campo per il secondo tempo Hanno cambiato campo per il secondo tempo Dopo questo incredibile gol del pareggio Adesso siamo ai tempi supplementari Mauro Meritavano il pareggio Mauro Ma pensi che riusciranno addirittura a vincere? Pensi che meritassero il pareggio Mauro? Dunque siamo adesso nel primo dei due tempi supplementari Questo pareggio è stato un vero colpo al cuore Mauro Pensi che riusciranno a reagire? Mauro questo pareggio in extremis potrebbe aver inflitto un duro colpo alle loro sicurezze Cosa pensi che accadrà nei tempi supplementari Mauro? Un pareggio sembrava il risultato più scontato anche prima dell'incontro I supplementari parevano inevitabili E così entrambe le squadre devono ripartire da K ancora una volta Vediamo chi sarà più determinato Entrambe le squadre sanno che adesso un errore potrebbe significare la fine Penso che a questo punto saranno cuore e nervi a decidere la partita Più che le qualità tecniche Dunque vedremo un gol nel secondo tempo supplementare? Le difese sono state perfette sinora anche nei supplementari Entrambe le squadre si sono annullate a vicenda Vediamo se il secondo tempo riuscirà a darci un vincitore Stiamo ancora aspettando che una delle due squadre segni un gol nel finale di partita Le autoreti sinora hanno tenuto le due squadre a stretto contatto Grandissima partenza con un gol nei primi minuti di gioco E con questo gol nei primi minuti si sono portati subito in vantaggio Hanno aperto le marcature nei primi minuti della partita Come pensi che proseguirà l'incontro Mauro? Si sono conquistati un vantaggio immediato Mauro Credi che riusciranno a mantenerlo? Ti aspettavi di vedere un gol così presto Mauro? Che incredibile partenza Mauro Sarei sorpreso se non ci fossero altri gol da qui in avanti Hanno subito il primo gol dell'incontro dopo soltanto pochi Tutti gli schemi e le strategie preparate prima del match vanno in fumo a questo punto Che partenza allucinante Mauro Verranno devastati? Vediamo se cedono di schianto oppure se riescono a risalire la corrente Scommetto che non avrebbero mai pensato di dover raccogliere la palla in fondo alla rete così presto Mauro Ne hanno segnato un altro e sono avanti di due gol Mauro Non ci credo Mauro Siamo 2-0 Che cosa pensi di questo Mauro? Gran momento per andare in vantaggio Mauro Giusto a un passo dal fischio finale del primo tempo Hanno meritato questo, vero Mauro? Hanno segnato nei minuti di recupero Potrebbe mai esserci un momento migliore per andare in vantaggio Mauro? Sono andati in vantaggio durante il recupero Che cosa ne pensi Mauro? Sono passati in vantaggio praticamente alla fine del primo tempo Devono cercare il pareggio adesso Andare sotto la fine del primo tempo dopo una battaglia tanto aspra Che ne pensi Mauro? Che drammatico colpo di scena proprio alla fine del primo tempo Mauro